Grazie a tutti. Ai nostri microfoni l'assessore Canu. Negli scorsi giorni i studenti dell'Università Rovira e Virgili di Tarragona sono giunti in visita ad Alghero. Nella sede delle Spagliuglie di Via Colombano hanno potuto documentarsi sullo stato del catalano algherese. Domenica 3 febbraio la Scuola di Istruzione Professionale Piatr ha una giornata di orientamento per far conoscere a studenti e genitori la potenzialità dell'offerta formativa. Un saluto a tutti voi ben ritrovati con l'informazione su Catalan TV. Questa mattina l'assessore ad Agenda 21 locale Massimo Canu ha fissato una riunione per illustrare il patto dei sindaci che prevede una serie di azioni condivise da inserire nel Paes, piano d'azione dell'energia sostenibile finalizzato alla diminuzione della CO2 del 20% entro il 2020 e programmare le attività da promuovere nella campagna di sensibilizzazione denominata Percorso Illuminato che prevede il suo inizio con la giornata internazionale del silenzio energetico mi illumino di meno promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2 che si svolgerà il prossimo 15 febbraio. Presente all'incontro tra gli altri anche il comandante della Guardia Costiera Prigigigallo e il presidente Sogea Luzzatti. Ma sentiamo ora l'assessore Massimo Canu. Sì, approfittiamo di questa occasione della presentazione di Millumino di meno che si terrà nel prossimo mese a cui l'amministrazione comunale intende partecipare con importanti azioni di riduzione dell'illuminazione pubblica misure che consentiranno chiaramente un piccolo contributo nella riduzione del consumo di energia elettrica ma che è molto più importante se arriveranno a sensibilizzare l'intera popolazione a questa importante riduzione energetica che ben si inserisce all'interno delle azioni che stiamo prevedendo nella conclusione della predisposizione del Paes. Il Paes che è il piano di azione sulle energie sostenibili è che l'amministrazione insieme all'aiuto dei consiglieri e degli stakeholder che oggi stiamo incontrando, stiamo incontrando oggi appunto le amministrazioni scolastiche, le istituzioni scolastiche, i rappresentanti dell'aeroporto del porto per condividere delle azioni che abbiamo già previsto prendendo spunto anche da loro proposte e consigli. Quindi ne approfittiamo oggi appunto con la presentazione di Milo Milo di Meno per presentare le azioni e presentare appunto il patto dei sindaci che al Paes ci ha portato. Arriva una nota dal Comune sulla polemica relativa al progetto telematico All-In. Il consigliere Marco Tedde, si legge, richiama l'attenzione con scarsa precisione sul progetto All-In, centro di accesso pubblico per il superamento del divario digitale, promosso dalla Regione Sardegna. Il progetto è infatti già una realtà nel Comune di Alghero e precisamente presso la Biblioteca Comunale in via Mazzini 184. I risultati sono verificabili. Ci sono cinque postazioni già attive. Si tratta del vecchio progetto Capsda, trasmigrato nella nuova rete All-In e a breve saranno inseriti nella nuova rete anche i 10 computer della Mediateca. Alghero, continua la nota, non può usufruire dell'iniziativa per il semplice motivo che ne ha già usufruito partecipando all'apposito bando Capsda circa cinque anni fa. Tralasciando le inesattezze riportate, non è vero infatti che la Regione Sardegna copre le spese di funzionamento del centro, quali quelle per le risorse umane impiegate, dei consumi elettrici, di connettività, del materiale di consumo. Magari fosse così, si legge, visto che siamo già centro All-In. E riferimenti inopportuni al sociale, va spiegato che il bando regionale pubblicato nel luglio scorso riguarda l'assegnazione di postazioni All-In non assegnate con il primo bando. La Regione infatti attribuisce diritto di prelazione ai comuni non ancora dotati delle attrezzature di cui ha il progetto Capsda, oggi All-In. E da anni il servizio di igiene urbana, mediante affidamento a ditto operanti nel settore, e l'esperienza del bando pubblico per individuare aziende private e per la pulizia e raccolta rifiuti si è dimostrata fallimentare. Dalla Sapi alla Slia, dalla Manutenkop all'Aimeri, i suonatori si sono avvicendati, ma la musica è rimasta sempre la stessa. A scrivere è Enrico Daga, esponente del Partito Democratico. Al Ghero resta una città sporca e maleodorante, anche per questo che perdiamo inesorabilmente, e seppur lentamente, quote di turisti. Credo che le ragioni di tale inefficienza siano da ricondurre ad un appalto che, anziché selezionare imprese virtuose con una visione di medio e lungo periodo, ci ha consegnato meri speculatori che hanno badato esclusivamente al proprio tornaconto economico, a discapito del servizio e della qualità della vita dei residenti e dei turisti. Attualmente si legge ancora come è noto possibile rilevare dalla stampa i rapporti con la ditta Aimeri. Sono diventati molto critici, sia per i rapporti con il personale che con l'amministrazione comunale. Il triste epilogo di un rapporto da molto tempo conflittuale, rappresentato dalla recente presa di posizione dell'amministrazione, che si è dovuta sostituire all'appaltatore per la liquidazione al personale delle competenze non pagate, nonostante abbia sempre fatto fronte agli impegni contrattuali. È importante altresì rilevare che il mancato conseguimento degli obiettivi di percentuali di raccolta differenziata determina un pesantissimo aggravio di costi per le pubbliche amministrazioni, correlativo o sperpero di danaro pubblico. Alla luce di questi ragionamenti ritengo necessario e improrogabile un cambiamento radicale della modalità di affidamento del servizio, inaugurando una gestione pubblica che sostituisca finalmente quella privata, conclude la nota di Daga. Negli scorsi giorni Alghero è stata a meta di un gruppo di studenti catalani. I giovani iscritti all'Università Rovire Virgili di Tarragona hanno potuto documentarsi sullo stato degli studi del catalano all'Università di Sassari e dibattere anche sulla situazione sociolinguistica dell'Algherese. L'incontro si è svolto presso la sede della Generalità del Catalunio ad Alghero in Via Columbano. Negli scorsi giorni un gruppo di studenti della Facoltà di Lettere dell'Università Rovire e Virgili di Tarragona hanno fatto un viaggio di studio ad Alghero per approfondire la conoscenza dell'Algherese e per conoscere anche altri aspetti della realtà culturale algherese e sarda, accompagnati dal professor Peranavarro, docente esperto in dialettologia. Gli studenti dopo una tappa a Mamoiada dove hanno assistito alla festa di Sant'Antonio con i fuochi caratteristici che ricorda quella della tradizione delle terre catalane dei fuochi in onore di Sant'Antoni del Porchette, erano interessati a conoscere la lingua sarda e il suo attuale stato di normalizzazione e normativizzazione. Venerdì scorso, durante una giornata di studio che si è tenuta presso la delegazione della Generalitat de Catalunya, tappa ad Alghero, dove il gruppo si è invece dedicato a raccogliere informazioni sullo stato attuale degli studi del catalano presso l'Università di Sassari. Hanno potuto dibattere circa la situazione sociolinguistica dell'Algherese. All'incontro sono intervenuti il professor Peranavarro, il professor Iban Leo Gliop e l'esperta Carla Valentino. All'incontro inoltre hanno preso parte l'assessore della comunità ed identità del comune di Alghero, Romina Caula, e il direttore delle SPA Egliuglio, Joan Elias Adeglie. La visita di questi studenti nel nostro territorio è stata possibile grazie al programma DRAC Invern, un programma di aiuti economici promosso dalla Charcha Vives d'Università, della quale fa parte anche l'Università di Sassari, che ha la finalità di agevolare la mobilità degli studenti per assistere a corsi, seminari o altre attività accademiche simili.